15 dirigenti della destra partenopea hanno sottoscritto un documento nel quale annunciano l'appoggio a casa Pound alle prossime elezioni. Nel corso di un incontro pubblico in un hotel del centro cittadino intorno all'ex senatore Michele Florino, ex consiglieri di comune, regione, provincia ma anche dirigenti attivi nelle circoscrizioni e a livello nazionale hanno sottolineato l'esigenza di riconoscersi in una forza politica alternativa alla coalizione di centrodestra che si presenta alle elezioni del 4 marzo. L'ex consigliere regionale Bruno Esposito spiega il senso politico dell'incontro. Un nutrito gruppo, un consistente gruppo di dirigenti politici e di rappresentanti istituzionali della destra napoletana che nel tempo hanno rappresentato l'Alleanza Nazionale ma prima ancora l'MSI hanno deciso in questa elezione di appoggiare le liste di casa Pound perché riconoscono in casa Pound la capacità, la volontà di portare avanti quelle battaglie che loro hanno sostenuto per un'intera vita. Presente in sala insieme tra gli altri a Giovanni Bellere, Luca Ferrari, Carlo Lamura, Sergio Rastrelli e Giovanni Papa anche la candidata Emanuela Florino che ha così commentato l'inchiesta di queste ore che ha coinvolto esponenti politici di destra e sinistra sulla questione rifiuti. Se mai dovesse essere reale lo scandalo soprattutto dei rifiuti, dello sversamento dei rifiuti sarebbe una cosa gravissima. C'è una differenza sostanziale tra chi decide di fare politica per vivere e chi invece vive per fare politica. Questa è la differenza tra noi e gli altri partiti. È chiaro che chi ha degli interessi poi dopo si dimentica del popolo, anche del suo popolo, anche della salute del suo popolo.